Il raggio di sole è un'associazione che si occupa delle persone, delle donne in modo particolare che hanno avuto dei problemi oncologici, precisamente le donne più che altro che hanno avuto il problema del tumore al seno. Con queste donne cosa facciamo? Cerchiamo di aiutarle, di supportarle durante il periodo della malattia e di offrire loro dei servizi, degli apporti, degli aiuti riabilitativi ritrovandoci insieme fra di loro, con noi, per passare questo periodo difficile della vita. Abbiamo uno sportello ascolto con una psicologa che tutti i martedì è gratuita e offre un aiuto a livello psicologico. Poi abbiamo un mucchio, un sacco di attività. Abbiamo avuto delle signore che hanno fatto dei vestiti appositamente per loro, abbiamo fatto una sfilata di moda una sera nel palazzetto di Zanè dove queste donne hanno sfilato. Reinventarsi donna si chiama la manifestazione, non tanto per far vedere i vestiti ma proprio per riproporsi che la malattia non è per niente una cosa che ti cambia come donna, anzi ti dà maggiore voglia di vivere, maggiore grinta e quando tu riesci a stare un po' meglio ti senti di più donna.